Sì, la barca non è affondata, la barca ha subito un principio di allagamento nella nottata di ieri e in sostanza si trova adesso ormeggiata per aspettare poi le attività successive quindi da parte nostra, per camminare la dinamica della problematica riscoltata. Ma ci sono state le operazioni svolte? Abbiamo visto dei galleggianti essere galatinati? Sì, le operazioni svolte prevedono in questo caso la messa a mare per il confinamento di eventuali principi di inquinamento, la messa a mare di due panni assorbenti, nello specifico, questo prevede la procedura.